musica 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 no kick ma come fa a tirare un calcio a una conchiglia vabbè non è una conchiglia non è quello che vuole bentornati a questa nuova puntata del grande gaz sp si ritrova nel nascondiglio del team magma idro quello che cazzo era idropompe vedi ok ho capito la battuta attenzione sono solid snake non mi vedrai mai non mi hai visto io sono solid snake pensavo fossi sunfish oh oggetto green scarf fa schifo quindi la buttiamo via non ci serve un cazzo sai che tossi pensavo fossi tossisci si come off course pensavi che fosse di corsa mamma mia quante volte l'ho riscita la tipo con la barba il mio cerrimo nemico la tipo con la barba vai liquidato allora charmeleon era di tipo normale quante volte l'avevo scritta off course di corso ah un casino di volte avevi preso un sacco di volte quattro per via di questo off course traduzione perfetta off course uno di loro è un pokemon e sarà il nostro incontro di questa zona in teoria sono eletrode sono le pokeball che esplodono sai si ma io le ho prenduto si oh io sono solid snake non mi vedrai mai aha oh no cazzo espion tipo coleottero quindi quindi non ho una mossa wing wing attack aia vital throw slash bomb slash bomb super effective merda merda si è aumentato troppo l'attacco allora ipnosi slash oh merda 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 ha aumentato l'attacco fin troppo ahhh gaz no 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 voglio andarvene via da qui mind reader dovrei aumentar l'attacco alla difesa horn drill che c***o e vai ce la facciamo sempre io mi spavento OP 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 per un tipo lotta Peroy shockwave ho detto rocciotomie no shockwave verrà molto più Hugh aah questo roba viene uno che non ce la fa ha riusc lose ha di la limonata limonata è la bellissima che dice mei cose cosa cosa mei cose cosa non si sa ok cioè qual era l'effetto comunque di che quali che diceva mei cose e poi non si sapeva più niente ah quello potrebbe causare probabilmente le palle ok sono solo gli snake otacon mi hanno scoperto wing attack morto allora qui forse su x e y non ho una volta che c'è un'altra sono arrivato oh no sono arrivato già qui al posto allora allora dove prima voglio trovare le pokeball sabbia soffice ma non serve un cazzo me la tiro negli occhi si sabbia soffice via dicevi non mi ricordo ah si su x e y odiavo gli abba perchè cercavo di catturalli si trasportavano si sempre soprattutto se sono sono shiny no ma non era parecchio quello shiny no il peggio è stato quando hai trovato quel gravel è un shiny vai ora lo catturo suicidato non mi ha neanche fatto una autodistruzione figlio di puttana infame il primo shiny che avevo trovato sarebbe già andato io invece l'ho ammazzato il mio primo shiny davvero mi ricordo che è stato un wingull che mi son detto ok è un wingull no selvatico però mi sembrava un po' strano perchè aveva era verde invece che blu mi son detto boh scusa ancora eh si mi son detto boh sarà un caso che è verde magari il mio gameboy che lo fa sembrare verde uccidiamolo e invece era poi qualche anno dopo ho scoperto che erano shiny e lì ti sei pentito e minchia ho fatto no il mio primo shiny l'ho ammazzato tu il tuo primo shiny l'hai ammazzato il mio non si è fatto neanche venere esatto e mi ha detto ah no poi praticamente ho trovato un altro shiny un po' dopo quando ho giocato a pokemon argento che c'era la caverna degli unknown e ho trovato unknown n blu era bellissima cioè l'ho messo in squadra per un attimo giusto perchè era carinissima no però ma ti ricordi sul 3ds quanti cazzo di shiny ho trovato con lo scambio prodigioso e lui ha dato una volta ok qua da qualche parte 40 shiny ti avevo passato quel minimo così no ma che bisognava fare questa liquida già così allora così aha e poi di qua comunque ti avevo passato come minimo 40 shiny si mi aveva Sierperior che l'ho messo in squadra. Armaldo! Che roba di te. È un totem! Ma chi se ne frega! A me piace! Ma io voglio girarci! Ma è il livello 30, cazzo! Catturano! Assolutamente lo catturo. Bruce, dove sei? Lui ci usa morso. Noi abbiamo un morso migliore. Ha ha! No! 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 Oh no, c'è... A knockoff! Forte! Knockoff è una mossa che priva l'avversario di qualsiasi oggetto abbia. È fortissima in competitivo. Ultra Ball! Fatti catturare! Catturato. E vai. Come lo chiamo? Armando? No, Giuseppe. Giuseppe. Ok. I più bizzarri devono essere chiamati così. Poi c'è la faccia da Giuseppe. Hai ragione. Se è forte lo voglio in squadra. Anch'io. Borneal al posto della Master Ball. Cosa è questa roba? Sì, praticamente cura dalla bruciatura, ma... È una merda. Via. Va. E l'altro Pokémon selvatico era un Kabuto! No, se tu... Cioè, potevamo catturarlo perché è morto. Il nostro, però... Eh, va bene. Cornberry. Quindi non abbiamo neanche trovato la Master Ball. Dai, va bene, abbiamo Giuseppe soltanto. Sì, Giuseppe è stato una... Un sollievo. Sì. Sì. Direi che abbiamo fatto un ottimo acquisto. Ma acquisto? Non l'abbiamo trovato per terra. Sì. Ma l'hai abbandonato, poverino. Sì, veramente. Allora, Sully Snake. Autocon. Octagon. Octagon. Superpozione. Ma sai che io ci ho provato a mettermi uno scatolone addosso e passare inosservato? Non ce la fai? No, ha funzionato che non c'è. Perché ci hanno tirato un calcio ma mi è arrivato sul culo. Sì, sì, sì. Allora. Che poi è una parida fabbrica. Dio Cristiano! Un altro Dio Cristiano! Prima... Una volta abbiamo trovato un uomo cristiano, ti ricordi? Non sì. Ok, lui li manda a Yidin. E noi li mandiamo con attacco d'ala. Sì, è carinissimo. È sempre stato carino. Sai lo shiny di Yidin? Eh, quello nello. Bianco. Bianco-grigio, è bellissimo. Sembrava Lola. No, no. Eh? Sembrava la Lola? La Lola. La... La... La forma Lola! Ah, ok. Oh, buh. Ti ricordi di Porygon che ci ha ucciso Tekka? Segnalalo. Sì, tranquillo che lo segnalo. Bravo. Eh, Magneton. Ma che brutto. Shiny? No, non è shiny, tranquillo. Ma è verde. No, shiny non mi ricordo. Eh, shiny mi sembra che abbia... Sia di tipo oro. Ma quello sembra un verde comunque, non è un grigio. No, mi sembra che sia di tipo... Sia tipo oro la shiny di Magneton. Sì, ma se riuscissi magari anche solo a colpirlo... Ritiralo. Ah, che balle. Franco! Manci Gats! No. Franco, levati dalle balle! Gats, vai! Sì, ci penso io! Critical Hit. Ma sei un dio, Chris. Chris, veramente. Ban! Ahahahah! 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 E il mio... Intanto il mio capo se n'è andato con lo super... Con lo super sottomarino. Va bene. Io me ne vado allora. Andiamo a cercare il capo. Eh? Sì, praticamente il capo è a Ceneride. Che cazzo sta... Però a Ceneride non possiamo arrivarci. Fatto sta che ora si è liberato questo passaggio. E ci andremo. Praticamente percorreremo un intero mare. In cerca dell'isola di verde a zumpo. Dimmi che possiamo catturare Pokémon. Sì. E va... Vuoi catturarlo adesso o alla prossima puntata? Alla prossima puntata. Va bene. Oh? Ah! Ah, non, non, non.